cari tutti mi chiama milan sono head of digital lending product and management di limiti oggi parleremo delle diverse forme tecniche del credito a supporto delle imprese i finanziamenti a breve termine sono degli strumenti del credito che una banca mette a disposizione delle imprese affinché possano beneficiare tali imprese di un supporto a breve termine mediamente dai 2 3 ai 18 mesi di durata l'apertura del fido in conto corrente è uno strumento molto versatile può aiutare le imprese a soddisfare le necessità di breve termine ad esempio l'impresa concorda con la banca un importo massimale e la banca mette a disposizione sul conto corrente dell'impresa una volta che l'impresa riceve bonifici dai propri clienti versamenti o accrediti sul conto corrente questa disponibilità viene reintegrata man mano può essere a scadenza cioè scade questa disponibilità a un determinato momento dell'anno o a revoca cioè continuamente disponibile finché la banca decide di concedere questo credito all'impresa stessa i finanziamenti di questa natura vengono compensati tramite gli interessi che l'impresa deve versare alla banca o annualmente o trimestralmente in base agli accordi presi ad esempio se un'impresa ha un plafonum massimale di 50 mila euro può attingere a questo massimale in ogni momento facciamo un esempio quindi se l'impresa ha bisogno di pagare l'affitto di un capannone e il suo cliente è in ritardo con il pagamento di una fattura può utilizzare ad esempio 20 mila euro quindi gli interessi che la banca andrà ad debitare al cliente saranno solamente sulla quota di 20 mila euro che saranno stati utilizzati per n giorni n settimane n mesi ovviamente una volta che il cliente avrà saldato la fattura allora il fido tornerà ad essere ripagato e quindi gli interessi smetteranno di maturare e il calcolo puntuale viene addebitato a fine anno in base al periodo preciso di utilizzo di questi 20 mila euro l'anticipo sul portafoglio salvo buon fine è uno strumento che molte aziende italiane utilizzano queste aziende sentono la necessità di questo strumento per un motivo molto semplice perché sono abituati a lavorare con i propri clienti non attraverso il classico bonifico ma attraverso dei riba o dei mav se l'azienda necessita di incassare subito la fattura che ha emesso verso il cliente presenta questi effetti quindi mav o riba alla banca che la banca anticipa e mette a disposizione sul controcorrente dell'impresa a tempo zero si chiama salvo buon fine perché la banca si aspetta di ricevere l'incasso dal cliente al momento della scadenza della fattura qualora il debitore quindi il cliente risultasse inadempiente la banca adebiterà questo importo sul controcorrente dell'impresa che ha richiesto l'utilizzo di questo prodotto l'anticipo su fatture è uno strumento che tantissime imprese italiane utilizzano la necessità è detta da un ritardo che tale imprese vedono nei pagamenti da parte dei clienti classico 30 60 90 120 giorni di ritardo che le imprese si concedono vicendevolmente per aiutare il ciclo produttivo se l'impresa emette una fattura a pagamento 120 giorni e necessita di ricevere la liquidità immediatamente questo strumento è quello più indicato si presenta con la fattura in banca la banca anticiperà le somme della fattura stessa al netto degli interessi o commissioni o magari con interessi posticipati e riceve immediatamente la disponibilità sul controcorrente sarà poi la banca ad attendere l'incasso da parte del cliente a 120 giorni dalla scadenza gli interessi vengono o scontati in fase di erogazione quindi fattura di 100 interessi di 2 quindi l'impresa riceve 98 o se la forma tecnica lo prevede gli interessi verranno pagati esclusivamente nel momento dell'incasso quindi dopo 120 giorni l'anticipo su pegno è uno strumento molto interessante aiuta quelle imprese che non hanno beni immobili terreni a dare in garanzia quindi qualora la banca richiedesse di ricevere come collaterale un qualcosa che garantisca il finanziamento ecco in quel caso l'anticipo su pegno può essere una soluzione la banca mette il pegno su un'azione su un'obbligazione o strumenti di questa natura e ovviamente quando l'impresa rimborsa il finanziamento impegno decade quindi torna nella disponibilità dell'impresa stessa l'anticipo transato post è uno strumento finanziario e di credito che va incontro alle esigenze delle aziende che lavorano con il retail se un negozio una piccola impresa necessita di farsi anticipare una quota dell'incasso mensile allora la banca mette a disposizione una piccola percentuale dell'incasso che ad esempio negli ultimi 12 mesi questo negozio questa impresa ha ricevuto nel quotidiano questo anticipo può servire per pagamento di un affitto acquisto di scorte un picco di necessità di liquidità che l'impresa ha di conseguenza con il transato quotidiano da parte dei clienti il finanziamento viene rimborsato man mano gli interessi sono conteggiati per l'effettivo utilizzo dell'anticipo quindi una volta che finanziamento viene rimborsato completamente la banca debiterà gli interessi per la durata dei giorni effettivi che l'impresa ha beneficiato di questo finanziamento finanziamento scorte magazzino è uno strumento molto intelligente pensato per tutte quelle imprese che detengono dispongono di un magazzino molto importante ad esempio se un'impresa vuole accumulare scorte nel magazzino per poter far fronte a momenti di stagionalità e quindi non interrompere il processo produttivo con questo tipo di finanziamento può acquistare tutte le materie prime in maniera anticipata questo permette all'azienda di dare in garanzia o di fornire a supporto di questo finanziamento il magazzino stesso cosicché la banca possa disporre di un collaterale a protezione del finanziamento ovviamente il finanziamento il credito viene ripagato con la trasformazione la lavorazione di queste materie prime presenti nel magazzino e quindi con il processo di vendita l'impresa può rimborsare i soldi che ha ricevuto in anticipo finanziamento a breve termine chilografario è uno strumento rivolto a quelle imprese che presentano uno standing ed un merito creditizio elevato infatti la banca concede un finanziamento senza chiedere alcun tipo di garanzia non ipoteche non pegni nessun tipo di collaterale l'impresa può utilizzare queste somme per ogni tipo di bisogno per una durata che può andare dai 3 ai 18 mesi l'apertura di credito ipotecario è uno strumento molto flessibile la banca mette a disposizione dell'impresa sul conto corrente una somma prestabilita che l'impresa può utilizzare in ogni momento del proprio ciclo produttivo ovviamente la banca richiedendo una garanzia per tutelare questo tipo di finanziamento impone o instaura un pegno o un'ipoteca su sostanzialmente l'immobile il capannone un terreno questo aiuta la banca ad erogare il credito in maniera più sicura e di conseguenza garantisce anche l'impresa tassi condizioni e caratteristiche agevolate ovviamente quando l'impresa decide di estinguere il finanziamento e di non avere più a disposizione o la necessità di questa apertura di credito la banca libera il bene dall'ipoteca o dal pegno stesso in questa maniera l'impresa torna in pieno possesso dell'immobile sottostante grazie a tutti grazie a tutti